Con Scienza e Gioco di Clementoni, il grande spettacolo della scienza è nelle tue mani! Con Archeo Giocando scava nella preistoria e riporta alla luce i fossili dei dinosauri! E la magia non finisce mai! Con la mia prima chimica! Con tutti gli strumenti di un vero scienziato! E oltre 100 esperimenti! E se vuoi scoprire tutti i segreti della natura, c'è Esperimenti di Botanica per creare il tuo giardino delle meraviglie! Scienza e Gioco e Clementoni, il numero uno dei giochi educativi!